E ora per la cultura scopriamo insieme le avventure di Fulvio Pappetti, protagonista dell'ultimo libro firmato da Lino Pinna. Una storia che può sembrare come tante altre, e invece è tutta un'altra storia. Quella di Fulvio Pappetti, protagonista della terza prova narrativa di Lino Pinna, racconta di un uomo cresciuto a pane tv. I personaggi che vede sono il suo mondo, i suoi amici. Inizia con lo zecchino d'oro, poi arriva Maria con i suoi amici, che gli consente prima di frequentare la scuola e poi, nell'età adulta, lo accompagna nel mondo dei sentimenti, nominandolo tronista nel salotto di Uomini e Donne. Eh sì, infatti Fulvio Pappetti praticamente non ha una identità propria, lui vive semplicemente dentro la televisione, non se ne accorge nemmeno. Ed è un personaggio, chiaramente inventato, che ne passa di tutti i colori in questi programmi televisivi. subisce tutto quello che gli viene proposto senza mai decidere niente. Quindi passerà attraverso una serie di programmi, di format. Infatti il libro è strutturato proprio in questo modo qui, cioè ogni capitolo corrisponde a un format televisivo. Poi finirà nella casa del grande fratello, sempre per sbaglio, sempre per vicissitudini strane, assurde, comiche. Finirà addirittura nell'isola dei depravati, che poi è la sintesi, diciamo così, grottesca di quelle isole che si vedono in certa televisione. Fulvio Pappetti è un personaggio che fa sorridere, a partire dal nome, ma è un sorriso che pian piano si spegne. Sì, è un sorriso che si spegne perché il racconto certo è ironico e divertente, però non è altro che una riflessione sul mondo attuale, cioè sul fatto che tutto stia diventando sempre più virtuale, meno reale. Infatti Fulvio quasi ogni notte sogna Platone, il filosofo Platone, che non è altro che la sua coscienza, che cerca di risvegliarlo dicendogli di lasciare perdere quel mondo virtuale e lo vuole invece riportare verso il mondo reale. Però lui è caduto in questo loop, è caduto in questo gorgo dal quale non riesce più ad uscire.